perché questo possa ritornare ad essere una realtà, ovvero che noi andiamo in giro e le persone ci dicono voi sì che ci risolvete i problemi concreti, non andate in televisione a parlare dei massimi sistemi venite qua in via Bramante, piazza Giotta, San Giorgio a vedere un po' com'è la situazione, com'è l'environment e vedete un po' il palazzone dietro che la giunta non si sa come può risolvere, cosa vuole fare perché ormai è diventato, e lo era anche prima quindi è stato un problema non risolto, un dormitorio per extracomunitari la Lega quindi riparte dal basso, queste sono le nostre volontà iniziali da cui ripartire io ho volutamente scelto insieme ad Andrea Villa e gli altri della nostra sezione questa data perché era la data che cadeva esattamente una settimana dopo l'elezione di Matteo a segretario nazionale e il giorno dopo l'elezione di Marco a segretario cittadino ecco io lascio la parola a Matteo che poi deve andare a Brescia e vi ringrazio ancora nuovamente per essere venuti qui bravo